Ragazzi, allora ragazzi vi faccio vedere un video di dove parte il sentiero per vedere la località El Gorgo Ragazzi, il cartello valdastico qui, ragazzi vi faccio vedere qui il cancelletto blu Dov'è il cancelletto blu? Eccolo qua, il cancelletto blu qui Questa è la strada principale Ok, la montagna è questa e il sentiero è questo, ok? Non vi potete sbagliare, andate su, state attenti, non scivolate Località bellissima, ve lo consiglio ragazzi, località Casotto, Valle dell'Eastico, ragazzi Un luogo bellissimo Qui c'era anche il confine austriaco Ora vi faccio vedere l'antico confine di stato Italia-Austria fino al novembre 1918 ragazzi Con tanto di monumento Eccolo qua Eccolo qua ragazzi Qua ci salutano ragazzi, ci salutano Avete visto, qua ormai ci conoscono tutti Siamo famosi ragazzi qua in questo posto Siamo gli unici turisti più che altro Vabbè dai, ragazzi Se volete venire qua Qua c'è lo spazio che fa per voi Natura incontaminata, bellissimo Ciao belli, ciao Ciao